La mia stagione, diciamo, sono stati degli alti e bassi, perché comunque il posto da titolare non ce l'ho sempre avuto, anzi, per tutta la prima parte sono state più le volte in cui partivo dalla panchina, quindi alti e bassi, un po' sicuramente per dei meriti miei, magari. Sì, però è un finale in crescente in cui sono riuscito a trovare più spazio e niente, quindi il finale penso sia tutto sommato positivo e alla fine questo può risanare una stagione, come già detto, con alti e bassi. Il prossimo anno io per contratto devo tornare a Lentella, poi lì si vedrà, qui sicuramente mi sono trovato molto bene e non mi dispiacerebbe nemmeno tornarci, pure sapendo che c'è tanta intenzione di fare un campionato importante, però al momento dovrebbe essere la Lentella a prendere decisioni, magari, assieme a me e vedere cosa fare nel futuro. Noi ora non abbiamo più obiettivi, però la partita comunque è importante, anche se loro hanno già vinto, noi siamo già salvi, vogliamo sempre metterci in mostra e fare bella figura, quindi cercheremo di impegnarci al massimo e di fare la più bella figura possibile e vincere magari, ovviamente.